Il Tempo di Avvento Il Tempo di Avvento Il Tempo di Avvento Il Tempo di Avvento Non si può toglierla, soprattutto è un grosso evento commerciale, l'importante è sfruttarlo sotto altro nome. Dunque noi abbiamo sicuramente il dovere non di fare l'albero di Natale e metterci dei doni l'un per l'altro, ma mettere dei doni, così come i pastori, nella loro povertà ma nel loro grande cuore, i doni che portarono al bambino che si fa indigente per noi. Si offre all'attenzione del nostro amore, della nostra qualità di cuore e chiede di essere adorato, non solamente assistito. Un Dio che chiede di essere fatto oggetto di cura delle nostre povere attenzioni. Ecco il vero scambio dei doni. Signore ti dono il mio cuore perché capisco che tu sei il Dio che si fa agnello per noi, per cambiare il nostro cuore e renderlo migliore. Nel donare il nostro cuore, la nostra volontà, dunque la nostra vita, dunque la volontà di cambiamento, di volontà di essere migliori, noi consegniamo a Gesù la nostra povertà perché egli la riempie della sua ricchezza che è la ricchezza spirituale. In questo ricordo e attesa del ricordo, liturgicamente chiamato avvento, in realtà la liturgia ci trasporta a un nuovo avvento che è l'avvento di ritorno del Cristo dopo che ha compiuto tutta la sua opera. L'ha compiuto su se stesso, l'ha applicato a tutti quelli che sono di buona volontà e deve applicarlo a tutti gli uomini che sperimentano la nascita, la vita e la morte su questa terra perché sappiano rivolgersi a lui con gratitudine per l'opera di salvezza che gli porta. Il ritorno di Cristo, dunque, è quello che noi già celebriamo adesso come senso di attesa nella gloria per rendere giustizia a tutti e misericordia a chi lo invoca. Il Natale si ha dunque tensione, così come la liturgia ci insegna, al Cristo che è, che era e che viene, al Cristo che va invocato con il grido dell'Antico, è scritto nell'Apocalisse, vieni Signore Gesù, Maranatà, vieni in mezzo a noi, torna in mezzo a noi, salvaci dalle nostre miserie, vogliamo essere con te. Non più come umile servo di avere fatto uomo che cammina per le strade della Galilea e della Giudea, ma come Cristo trionfante nella gloria, col corpo glorioso della risurrezione, vieni a portare luce e salvezza ai cuori, vieni a distoglierci dal male, vieni a salvarci dal male, vieni a dividere ciò che è luce dalle teneble nei nostri cuori e tra di noi. Salvaci Signore, portaci con te. Questo ritorno del Signore, infatti, è per portarci con sé nella gloria. Una risurrezione avverrà all'incontro col Signore, una prima risurrezione, così come dice la scrittura. Saremo noi, o altri, non sappiamo, ma che la nostra mente, il nostro cuore, siano in questo stato di veglia, di attenzione, di operare tutto per la sua gloria. Tutto quello che facciamo deve essere purificato dalle opere e dalle intenzioni di male, che tutti i nostri doveri, anche i più umili, siano rivolti per lui nella carità delle nostre relazioni col prossimo, perché questo è il segno della sua presenza nei nostri cuori. Dunque, noi possiamo dire, vegliamo, obbediamo al Vangelo, che ce lo chiede, e con il cuore, con un grido profondo di speranza, diciamo, vieni, Signore Gesù. Dio vi benedica.